Prosegue spedito l'Iter per la progettazione esecutiva da parte dell'ANAS e della provincia di Teramo per i lavori di completamento della pedemontana Teramo-Ascoli. Una strada che per la provincia di Teramo rappresenta una vera e propria priorità. Attualmente, per quanto riguarda la parte abruzzese, l'arteria si ferma a Floriano di Campli, ma una volta completata consentirà al Teramano di diventare lo snodo dell'Italia centrale fra la dorsale appenninica e quella tirrenica, rappresentando un elemento strategico di fluidificazione del traffico sul gomma. Ringrazio pubblicamente l'ANAS che sta lavorando insieme a noi per la progettazione esecutiva dell'opera. Ecco, l'ANAS va spedita. Noi siamo felici di aver fatto questa trade union con l'ANAS che ha la struttura per progettare e per poter dare un progetto esecutivo a quest'opera. Si è parlato sia della pedomontana, quella più a valle, che da Garrufo ci porterà direttamente ad Ascoli attraversando alcuni comuni della nostra provincia. Poi abbiamo anche parlato dell'altro progetto che sta ancora in fase di lavorazione, del progetto di miglioramento della Statale 81, che ci porta verso Ascoli e direttamente verso l'Ungria. Sono due arterie importanti per la nostra provincia. Dopo tanti anni si inizia a parlare di infrastrutture di un certo livello che collega le marche meglio a Teramo. E così possiamo dire che Teramo può tornare baricentrica con una viabilità importante. Guardate ecco la forza della provincia di Teramo in questi anni e che si è parlato poco e si è lavorato tanto, anche prima della pandemia. Quando, ricordate, se vedete le interviste all'inizio, dicevamo di pensare con una visione strategica, riprendevamo quei progetti vecchi che poi abbiamo dato ad ANAS per una revisione, ci prendevano in giro, e dicevamo come farete voi a finanziare questi progetti. Non ci preoccupiamo del finanziamento, ma intanto di portare sui progetti. E succede che la provincia, grazie all'ANAS, che ringrazio di nuovo, potrà portare nei tavoli che contano progetti cantierabili. E sapete di questi miliardi di euro che stanno in giro, saranno solamente possibili utilizzarli per progetti che sono cantierabili. Ecco, perciò noi appena avremo la progettazione esecutiva e definitiva che l'ANAS sta portando avanti, sono convinto che con la regione troveremo subito una forma di finanziamento. Vi siete dati dei tempi per la fine della progettazione? ANAS, sono stati in ANAS l'altro giorno, sta lavorando per la progettazione, sono convinto che loro riusciranno entro l'estate a dare l'opportunità di giocare sui tavoli con progetti esecutivi definitivi.